Telo Sender, l'Ube che vola nel playoff 6 di Coppa dei Campioni, una grandissima prestazione da parte di tutta la squadra. Sì, questa è una bella partita per noi. Stasera è molto forte in battuta e per me sono contento. Adesso guarda per il round of six e sono molto contento. Ora ci sarà questo playoff 6 contro Trento, un derby d'Europa. L'anno scorso l'Ube giocò contro Modena nella playoff 6 di Coppa dei Campioni. Quest'anno Trento, un altro derby con le italiane. Sì, è bellissimo, è molto vicino qui. È importante perché viaggia un anno molto lungo. Adesso abbiamo Modena, sono molto emozionato per questa cosa e adesso lavoriamo bene per una settimana e sì, guarda avanti. Un po' di sosta, un po' di riposo per voi in questa settimana, finalmente. Sì, ma lavoriamo tanto adesso. Sì, bene.